Bene, allora ci siamo, questo è l'ultimo telegiornale che ho condotto dopo 30 anni passati in questa azienda, qua lo studio è pieno di gente, sono anche un pochino emozionato. Io voglio ringraziarvi al di fuori di ogni retorica perché so che molti di voi mi seguono da 30 anni e mi hanno, come dire, cazziato quando c'era bisogno di cazziarmi, mi hanno anche supportato e sopportato nei momenti diciamo più bui, quindi veramente vi voglio ringraziare tutti e poi permettetemi anche di ringraziare, come dire, pubblicamente il direttore Enrico Mentana che veramente venerdì scorso mi ha commosso, sorpreso, passando quel servizio giornalistico che mi è stato dedicato e stringendomi poi la mano al termine di questo servizio e ringraziandovi così in diretta. Al contrario di quanto scritto da alcuni piccoli giornali in questi giorni io invece ho apprezzato moltissimo quest'atto che considero un atto di gentilezza da parte del direttore nei miei confronti, ma si sa, si sa, l'interpretazione della realtà spesso riflette essendo soggettiva il proprio modo di essere e se si è volgari si interpreta la realtà evidentemente in modo volgare. Grazie a tutti, io ho altre cose da fare da questo momento in poi, buona vita, arrivederci.